La Regione prova a sbloccare i crediti legati al Superbonus che ammontano a circa 800 milioni di euro coinvolgendo le società controllate. La questione è arrivata in commissione stamattina con tutta una serie di emendamenti, intervento che punta a sostenere gli interventi del Superbonus e aiutare in questo modo le imprese e le famiglie. Prima di questo passaggio ci sono state una serie di incontri con le associazioni come Ance, Confindustria, Anian e CNA. La posizione della maggioranza è chiara, il Superbonus è partito come un'idea positiva ma poi l'impiego è stato esagerato. Ovviamente la Regione non può farsi carico di risolvere un tema nazionale ma può, con i suoi strumenti, creare un sistema che sarà coordinato dalla Fira per gestire i crediti fiscali che arrivano dalle imprese. Noi andiamo avanti con il nostro progetto di legge perché lo riteniamo indispensabile. C'è, indipendentemente dal giudizio che si possa dare sulla legge in generale, che è chiaramente una legge nazionale che a noi non piace perché è stata fatta male, perché ha creato un debito, un deficit di bilancio di 200 miliardi che purtroppo le nuove generazioni avranno sulle spalle. Una legge fatta senza il principio della concorrenza facendo rimbalzare i prezzi alle stelle. È chiaro che però c'è un mondo imprenditoriale, c'è un mondo di cittadini che ha rispettato la legge e quindi a cui bisogna dare delle risposte. Noi nel nostro piccolo, per quel che può fare la Regione, interveniamo così come hanno fatto altre Regioni con questo spirito. Ma per le opposizioni la proposta della maggioranza è tardiva e fatta solo in chiave elettorale. Una proposta tardiva, una proposta che bypassa i nostri provvedimenti di legge, un centrodestra che a livello nazionale e a livello regionale non ci ha mai creduto in quella che è la transizione ecologica, ancora di meno nel superbonus. Superbonus o superpropaganda? Questo è il vero tema di oggi. Stanno portando avanti un provvedimento soltanto in funzione di quelle che sono le elezioni regionali del marzo 2024. Naturalmente liberando 12 milioni di crediti non si fa nulla, non si aiutano le imprese, non si aiutano i lavoratori, non si aiutano i cittadini abruzzesi.